Ve lo sarete chiesti almeno una volta nella vita, ma perché i Simpson parlano in dialetto? È una delle caratteristiche più importanti dei Simpson, uno dei motivi per cui questo cartone ha fatto successo in tutto il mondo, Italia compresa. Ma la scelta di far parlare alcuni personaggi in dialetto non è una scelta italiana, ma è stata una scelta fatta nel doppiaggio originale. Matt Groening ha voluto caratterizzare in maniera particolare alcuni personaggi per creare una connessione speciale con il pubblico che guardava il cartone. Per questo, per esempio, il personaggio di Willie nel doppiaggio originale parla in dialetto scozzese. Matt Groening voleva che lo spettatore si medesimasse immediatamente nella società dei Simpson. Dunque non erano solo gli scozzesi che si dovevano riconoscere in Willie, ma tutti coloro che vivevano in zone in cui c'erano persone che parlavano il dialetto scozzese. Questa pratica rientra nell'originale modo di fare satira ed ironia da parte dei Simpson. Dunque, per rendere la versione italiana caratteristica tanto quanto quella originale, e per evitare che si perdesse questa connessione culturale con il pubblico che negli Stati Uniti aveva permesso ai Simpson di avere un grande successo, i doppiatori italiani hanno deciso, in maniera molto intelligente e scaltra, di adattare i riferimenti culturali del doppiaggio originale alla società italiana. Ecco perché alcuni personaggi dei Simpson parlano in dialetto. E anche qui in Italia, proprio come nel doppiaggio originale, questo adattamento culturale ha avuto un grande successo, contribuendo insieme ad altri fattori al successo dei Simpson nel nostro paese. Ma adesso la domanda è Perché Carl parla in dialetto veneto? Perché Willy parla in dialetto sardo? Perché Winchester ha un accento meridionale? Questo lo scopriremo nel prossimo video. Iscriviti al canale ed attiva la campanellina. Lascia un bel mi piace a questo video, commenta questo video, condividi questo video, seguimi anche sugli altri social ed iscriviti ai miei altri canali YouTube. Trovi tutti i link in the box, ossia in descrizione. E noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!